E' stato presentato stamani lo spettacolo Due Partite, atto primo, tratto da due partite di Cristina Comencini, che andrà in scena sabato 10 agosto alle ore 21 in Corte Mattaccio al Polo Culturale Rettemisia. A rappresentarlo sarà la compagnia Le Staffette, di cui fanno parte Greta Alberici, Alessia Coselli, Lisa Franceschini e Sara Nomellini. Una performance incentrata sull'universo femminile, così come l'attività portata avanti dalle staffette, compagnia nata nell'ambito del Comitato Senonora Quando di Lucca, per la difesa della dignità della donna e la lotta al dramatico fenomeno della violenza. Io sono la portavoce, diciamo, in questo caso del gruppo che si chiama Le Staffette, che nasce nel 2011 a seguito delle manifestazioni del Comitato Senonora Quando. Siamo entrate in contatto con l'Associazione Culturale della Città delle Donne e da lì abbiamo cominciato a mettere in scena performance, letture che abbiano come tematica, diciamo, la condizione femminile. Non siamo un collettivo politico, ma siamo un ensemble di artisti che si riunisce attorno a queste tematiche, perché siamo quattro donne, perché quindi ci interessa, ovviamente, siamo vicine a questi tipi di tematiche, però il nostro progetto è un progetto assolutamente culturale. Abbiamo lavorato appunto su testi di grandi artiste donne, i Wenzler, con i monologhi della vagina, i testi di Franca Rame, che è stata una grandissima attrice, che ha lasciato però un'eredità molto importante, proprio sulle tematiche del femminile. E poi adesso l'ultimo progetto con cui andremo in scena ad Artemisia sabato prossimo, le 21.30, che è due partite di Cristina Comencini. L'evento patrocinato dal comune di Capannori è inserito nel cretellone degli eventi culturali al Polo Artemisia. L'ingresso è gratuito.